Il cinema che non c'è più. C'è un Natale degli anni 80 che in famiglia mai potremmo dimenticare. Papà in quel periodo ha spesso un umore piuttosto scuro, certamente attraversato da sue angosci interiori. Per la festività invitiamo la famiglia Gasman. Quando arrivano a casa nostra, diletta da Andrea, che allora è la compagna di Vittorio, confessa a mia madre che anche lui mostra qualche sintomo di depressione, è spesso piuttosto accigliato. Ugo e Vittorio sono amici da anni. Ciascuno ha per l'altro un affetto sconfinato e magari stare una serata insieme può fare bene a entrambi. È quello che pensiamo tutti. In effetti, nel momento in cui si rivedono, si abbracciano con calore, malgrado nessuno dei due sia poi così espansivo. Cominciano anche a chiacchierare e intanto si rifugiano nella stanza di Ugo. Ebbene, ne siamo tutti felici. Probabilmente stiamo ottenendo il risultato che abbiamo sperato. Potranno dialogare, distrarsi, tornare sulle loro questioni, rilassarsi a vicenda. In quella stanza ci restano più a lungo di quanto ci aspettavamo. Un'ora, un'ora e mezzo, addirittura due. La cena è pronta e facciamo in modo che lo vengano a sapere. Così loro riaprono quella porta e finalmente vengono fuori. Le facce non sono così distese. In realtà non sembrano nemmeno troppo rinfrancati. Li guardiamo, cerchiamo di comunicare entrambi le nostre speranze legate a quell'incontro. E allora, azzarda franca mia madre, siete stati bene? Cosa vi siete detti? Ugo e Vittorio si lanciano uno sguardo rapido e non so dire se nei loro occhi baleni un sorriso amaro. Poi uno dei due risponde, cosa volevi che ci dicessimo? Non abbiamo parlato, abbiamo pianto. Sì, due ore di pianto, perché intanto cercavamo di ricordare il cinema, il nostro cinema, il cinema che non c'è più. Considerato il mestiere che faccio da anni, è chiaro che ad un tratto ci sia stata la svolta. Ma questo avvenne quando ero già adulta e il mio primo contatto vero con il cinema non ebbe in fondo nemmeno un presupposto così romantico. Finì il liceo e mi discressi all'università. Quel mondo continuava a non essere in alcun modo nei miei pensieri, nei miei obiettivi professionali. Volevo solo fare la studentessa per conto mio e intanto trovare un avoretto che mi consentisse di guadagnare qualcosa. Ancora una volta tutto accadde in nome dell'indipendenza, che è un po' il punto fermo della mia vita e dei miei comportamenti. Ne parlai con Gianmarco, lui ha quattro anni più di me e abbiamo sempre vissuto insieme. A quel tempo faceva già l'attore e aveva messo in piedi una compagnia teatrale. Uno dei suoi spettacoli stava per diventare un film e quindi mi si presentò l'occasione di poter partecipare come assistente alla regia. Ma avrei accettato con uno stato d'animo identico anche un incarico da assistente di produzione o un qualsiasi altro lavoro, poiché, ripeto, allora non avvertivo ancora alcuna ambizione di entrare a far parte di quel mondo. Il mio scopo era solo avere un lavoro, anche provvisorio, una piccola opportunità per mantenermi da sola, nient'altro che quello, la chance di conquistare un mio primo guadagno. Di stare sul set e vivere un'esperienza proiettata sul domani non me ne importava niente. In ogni caso, mi proposi alla produzione come assistente volontaria e mi presero. Il film era Crack, lo dirigeva Giulio Base ed era l'adattamento cinematografico di quel testo teatrale, tra l'altro giudicato miglior opera prima al Festival di San Sebastian nel 1991. Prima di allora la mia rapida incursione durante il film con Pupi Avati era rimasta l'unica. Avevo 16 anni e si era trattato di una circostanza senza nessun valore. Stavolta era diverso, stavolta la mia presenza su un set era conseguenza di una scelta. Lavorare da assistente volontario non è un compito che preveda competenze o conoscenze particolari. Devi portare a termine funzioni piuttosto semplici, ma inevitabilmente dopo poco cominci a guardarti intorno, ti accorgi che piano piano impari. E imparare a volte è una scintilla, innesca un processo, stimola la curiosità di imparare ancora qualcosa di più. E poi finisci per chiederti se alla fine quell'ambiente di lavoro ti piace davvero, se vuoi che diventi il luogo in cui vorrai essere anche domani e negli anni che verranno. A me accadde più o meno così. Una risposta riuscì a darmela senza troppi dilemmi. Non l'avrei mai immaginato, ma quel periodo lo trovai divertente, forse anche perché avevo una discreta attitudine. Fatto sta che quando quel lavoro finì la produzione mi convocò nuovamente per propormi un nuovo incarico, altro impegno da assistente. Ormai avevo vent'anni ed entrare a far parte della squadra di un secondo film aveva un'area piuttosto diversa rispetto al lavoretto accettato la volta precedente. Voleva dire prendere tutta la faccenda un po' sul serio. Voleva dire raccontare anche a me stessa che in fondo questo mondo che avevo sempre così ostinatamente trascurato e che per via dei miei pudori avevo ignorato e volutamente evitato stava ora insinuandosi nella mia vita e probabilmente addirittura nei miei progetti. Quell'attività da assistente ora quasi mi appassionava, al punto che dopo poco il mio ruolo crebbe e diventai aiuto regista. In questi casi non è affatto detto che il passo ancora successivo sia automatico, ma nel mio caso, qualche anno più tardi, arrivò anche l'occasione giusta e mi presi la responsabilità più elevata, essere una regista, una regista vera. Quando raccorsi questa mia prima possibilità da meno di un anno della mia vita e in quella della mia famiglia era accaduto qualcosa di enorme. Mio padre non c'era più e se n'era andato nell'ottobre del 1990 all'improvviso e questo mi poneva in uno strano stato d'animo e lui aveva conosciuto le ambizioni di Ricky, di Gianmarco, di Thomas. Aveva visto nascere i loro sogni che in maniera diversa erano tutti legati al cinema. In me, nella bambina di casa, ha visto invece solo indifferenza rispetto a tutto questo. Ha conosciuto soprattutto il richiamo intenso che ogni forma di indipendenza ha sempre esercitato su di me, quell'indipendenza che fino a che lui c'è stato mi ha tenuta lontana dal cinema. Quel bisogno di indipendenza non è sparito, ma a un certo punto ho solo smesso di legarlo al cinema. Chissà, forse il motivo della svolta è stato proprio la sua assenza e dissolversi di quel mondo che ogni giorno quando ero bambina si tratteneva in casa nostra. A quel tempo indipendenza era starne fuori, escludersi da ciò che inevitabilmente ci avvolgeva e che in qualche modo seduceva i miei fratelli. Le cene, gli attori, i set, i registi, le chiacchierate, i produttori. Ora tutto questo non aveva più significato, non avevo più nulla da evitare. Il mio lavoro era frutto di una mia decisione, qualsiasi esso fosse. Lui però non sa che sua figlia è diventata una regista. Non gli ho dato nemmeno un indizio affinché potessi immaginarlo. Non sa che la professione della figlia oggi è dirigere attori come altri registi un tempo hanno fatto con lui. E sia chiaro, lo dico con rispetto infinito, per la grandezza sua e dei registi con i quali ha lavorato, molti dei quali sono dei monumenti.